La missione in Bulgaria è finita e così i fanti piumati sono tornati a casa. Questa mattina i militari del 6º Reggimento Bersaglieri di Trapani sono stati celebrati nel corso della cerimonia che si è svolta alla caserma Giannettino. Dall'agosto dello scorso anno sono stati impiegati nell'ambito dell'iniziativa NATO denominata Enhanced Vigilance Activity. La manifestazione è stata presieduta dal comandante della Brigata Aosta, generale Maurizio Taffuri, a fare da cornice la partecipazione dei confaloni e dei laberi delle associazioni combattentistiche d'arma, nonché delle principali autorità civili, militari e religiosi della provincia trapanese. Nel corso della cerimonia il colonnello Michelangelo Genchi, comandante di reggimento, ha ringraziato le donne e gli uomini dell'unità poste a suoi ordini per aver operato con impegno e dedizione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Alleanza Atlantica. A partire dal mese di ottobre 2022 l'Italia si è candidata a guidare come Framework Nation i Battle Group in Bulgaria di base della Novo Selo Chaining Area. Tutte le attività operative addestrative condotte dalla Forza Armata Italiana e sul fianco orientale della Nato sono disposte dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e svolte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforza.